Firmata richiesta ieri di trasferimento in un CIE di Ram Lubaia, l'indiano che ha rapito la bambina di 5 anni a Scoglitti. L'indiano infatti è destinatario di un decreto di espulsione dall'Italia. Si imbatte sul versante orientale dell'isola un'ondata di maltempo che ha messo a dura prova Catania. A Ragusa nonostante i rovesci temporaleschi è tutto sotto controllo ma si invita alla prudenza. Continuano i controlli volte al contrasto delle fumarole. Sono tre le persone denunciate e pari a 2000 quadrati invece l'area posta sotto sequestro. A portare a termine l'operazione i carabinieri della compagnia di Vittoria. Avviata campagna informativa sulle norme di sicurezza aeroportuali destinata ai passeggeri in partenza dall'aeroporto di Catania. L'iniziativa promossa e realizzata da SAC in collaborazione con ENAC ha volto molto successo. Ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che come avrete sentito dai titoli apriamo con la pagina dedicata alla cronaca e torniamo a parlare dell'argomento che tiene banco da diversi giorni in questo telegiornale ovvero l'indiano che ha rapito una bambina di 5 anni a Scoglitti perché è stato destinatario di un decreto di espulsione. Di questa notizia già ne eravamo a conoscenza ma la novità del giorno è che è stato trasferito in un CIO ovvero in un centro che consentirà all'uomo di raggiungere poi il proprio paese e quindi di portare a termine il decreto di espulsione. Sentiamo tutti i particolari della vicenda da Viviana Sammito. Sarà trasferito nel tardo pomeriggio al centro di identificazione di espulsione a Caltanissetta l'indiano di 43 anni Aram Lubaia che ha tentato di rapire una bambina di 5 anni a Scoglitti e martedì scorso. La questura ha firmato la richiesta di trasferimento al centro e la procura ha dato già il nulla osta. L'indiano era già destinatario di un decreto di espulsione che scade oggi entro le 21 di questa sera l'indiano senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora deve lasciare l'Italia. Il trattamento nei CIO viene disposto dal questore per 30 giorni e fino a un massimo di proroga di 18 mezzi quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione del cittadino straniero. La procura procede pure per il reato dell'articolo 10 bis, il reato di clandestinità. Nei confronti dell'indiano è ancora appennente il procedimento penale che lo vede indagato per tentato sequestro aggravato perché è in danno di minore. Un reato che prevede una pena da 1 a 10 anni ma per chiedere una convaia del fermo la pena minima deve essere per legge di 2 anni. In questo caso sia al di sotto della soglia minima ecco perché non è stato decretato il fermo. Una volta concluso le indagini il 43enne sarà processato in contumacia cioè per l'assenzione al dibattimento. L'Ubaia, venditore ambulante di Collanine, Cianfrusani e Spiaggia, già noti carabinieri per furti di rame, recettazione e spaccio di droga, una volta espulso non può fare rientro in Italia. Sabato scorso è stato interrogato dall'APM Giulia Bisello. Lui si è dichiarato innocente, non voleva rapire la bimba, non ricorda. Ieri pomeriggio il 43enne è rimasto in questura per le operazioni di identificazione in attesa dell'esplettamento degli atti per il trasferimento in un centro di espulsione. Per i due magistrati, Bisello e il procuratore capo Petralia, l'indiano si è limitato a tenere in mano la bimba per meno di un minuto, sotto gli occhi del padre che se l'è fatta subito restituire, senza che l'indiano ponesse di niego senza fuga. Un caso mediatico nazionale è divenuto anche politico, con l'espulsione dal territorio nazionale alla quale non ha ottemperato mai l'indiano. Un caso che ha suscitato polemiche, che probabilmente già nel giro di qualche giorno dimenticheremo quando Ram Lubaia non sarà più in Italia. Attacchi inaccettabili al PM che non ha applicato il fermo al cittadino indiano di 43 anni, indagato con l'accusa di aver tentato di rapire una bimba di 5 anni. E' la posizione espressa sul caso che arriva appunto da Ragusa, dall'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Si tratta di attacchi inaccettabili, sottolinea ancora l'ANM, che sono frutto di un approccio superficiale agli accadimenti, determinato dalla non conoscenza degli atti e dei presupposti di legge che hanno portato alle scelte della collega, che hanno come unica conseguenza quella di non consentire ai magistrati della Procura di Ragusa di svolgere il proprio compito nel giusto clima di serenità. Cambiamo argomento, parliamo del maltempo che in queste ore sta mettendo a dura prova il territorio catanese e non solo, anche nel Ragusano arrivano i primi rovesci temporaleschi, a Siracusa si registrano disagi, quindi dunque le spiagge iniziano a svuotarsi, mentre le strade si riempiono, ma di acqua. Le temperature si abbassano, forte vento e rovesci temporaleschi sparsi. E' questo in sostanza l'assaggio d'autunno che in queste ore sta vivendo la parte orientale dell'isola. Se da una parte la provincia di Ragusa risulta, almeno per il momento, la meno colpita, a Catania e Siracusa iniziano a registrarsi disagi e danni dovuti alla forte ondata di maltempo. In effetti il vento c'è. Ieri sera il clima non favorevole ha fatto desistere diverse persone dal raggiungere le mete estive e questa mattina in tanti hanno raggiunto le spiagge andando via dopo poco perché infastiditi dalle avverse condizioni meteomarine. Eppure doveva essere la settimana della grande ondata di calore, del ritorno dell'anticiclone, della rivincita dell'estate. Così l'avevano chiamata in molti. Invece adesso esattamente il contrario si sta registrando. Soltanto al nord splende il sole, ma senza eccessi di caldo. Tra la Calabria e la Sicilia c'è un freddo anomalo, con temperature fino a oltre 10 gradi. A Catania c'è il più 20, come se fossimo già a novembre. Il maltempo però nella provincia etnea ha generato numerosi disagi. Un forte temporale infatti si è abbattuto questa mattina nell'aria. Decine le chiamate di soccorso giunte alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, particolarmente colpite le località di Belpasso, Gravina, Mascaluccia e Nicolosi. Segnalate strade seminterrati, garage e cantine allagati, come anche tanti tombini di Velti. Inoltre alcuni automobilisti sono rimasti bloccati all'interno dei propri veicoli in panne a causa del livello delle acque raggiunto dalle strade. Amanti del caldo e dei tuffi al mare non disperate però. Durante il weekend, secondo quanto emerge dai dati aggiornati di oggi, il sole dovrebbe tornare a baciare i lidi. Da Catania ci spostiamo a Pozzallo per parlare di migrazione. Già nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale vi avevamo raccontato dello sbarco di ieri quando a Pozzallo sono arrivate 400 persone. Bene, tra queste c'erano 5 scafisti che sono stati già consegnati alla giustizia italiana. Sentiamo. Ore ed ore di ascolto dei 400 migranti arrivati ieri a Porto di Pozzallo ed è stato possibile identificare e fermare gli scafisti che hanno tentato di confondersi tra gli altri extracomunitari per non farsi individuare. Le informazioni dei testimoni sono state confermate dalle immagini dei telefonini che hanno ripreso chi ha condotto le imbarcazioni. Si sono aperte le porte del carcere per 5 soggetti ritenuti gli scafisti che hanno condotto 4 gommoni. Un nigeriano di 41 anni era al timone del primo gommone. Un senegalese di 21 anni conduceva il secondo. Il connazionale di 26 anni comandava la terza imbarcazione mentre un tunisino di 33 anni e un sudanese di 20 anni erano al comando del quarto gommone. Al termine dell'attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa gli investigatori hanno infatti ristretto gli scafisti al carcere di Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra l'altro i 5 hanno condotto i gommoni carichi oltre modo di migranti partiti dalle coste libiche mettendo a serio rischio l'incolumità dei migranti. Il gruppo diviso in 4 imbarcazioni è stato salvato dalla nave della Marina Militare Aliseo a nord della Libia. Sono arrivati in buone condizioni di salute. Tra loro ci sono 40 minori non accompagnati che in attesa di essere trasferiti in strutture adeguate sono ospiti all'hotspot di Pozzallo. Dall'inizio dell'anno sono entrati nel centro 12.305 migranti nel corso di 33 sbarchi. Da Pozzallo ci spostiamo ad Acate per parlare della lotta contro le fumarole che viene portata avanti dalla provincia di Ragusa, da tutte le forze dell'ordine della provincia di Ragusa. Nello specifico perché Acate? Perché proprio in quel territorio i carabinieri della compagnia di Vittoria hanno rintracciato tre persone che avevano trasformato un'area di circa 2.000 m2 in una discarica dove tra l'altro bruciavano residui di materiale vegetale e plastico. Sentiamo. Denunciate tre persone e sequestrata un'area per complessivi 2.000 m2. E questo è il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Vittoria. Questa mattina i militari si sono recati in contrada Chiappe in territorio di Acate ed hanno controllato meticolosamente tutta la zona. Dai controlli è emerso che un'intera area era stata convertita in discarica abusiva sul mare per lo smaltimento illecito di rifiuti. Inoltre è stato possibile per i carabinieri appurare che alcune zone erano interessate dalla combustione di plastiche e di scarti di coltivazioni serricole con relative ceneri e residui. Il tutto è stato posto sotto sequestro. L'accumulo di rifiuti speciali e delle materie plastiche e in particolare la loro combustione provoca lo sversamento nel terreno di liquidi e sostanze altamente nocive. Queste ultime possono inquinare il suolo e le relative falde acquifere. Mentre nell'area si liberano idrocarburi policiclici altamente inquinanti. È scattata così la denuncia a piede libero per tre incensurati di 34, 35 e 73 anni, tutti di Niscemi. Adesso dovranno rispondere dei reati di abbandono, combustione e smaltimento illecito di rifiuti speciali con emissioni diffuse in atmosfera di polveri. L'intera area, comprendente diversi appezzamenti agricoli di oltre 2000 m2 complessivi, è stata posta sotto sequestro. E sono tutt'ora in corso accertamenti di natura tecnica finalizzati all'individuazione di corpi metallici nel sottosuolo, al fine di accertare il livello e la gravità dell'inquinamento prodotto. L'attività di oggi si aggiunge a quella del mese scorso, quando ben 16 persone erano state denunciate ed era stata pure sequestrata un'area di 16.000 m2. Particolare attenzione per quanto riguarda la sicurezza all'interno dell'aeroporto di Catania, dove sono state distribuite delle brochure per i passeggeri, per migliorare la sicurezza all'interno dell'aeroscalo Etneo. Sentiamo. Viaggiare informati è l'obiettivo della SAC, la società aeroportuale di Catania, che già dal lunedì scorso ha divulgato una campagna informativa sulle norme di sicurezza aeroportuali destinate ai passeggeri in partenza dell'aeroporto Etneo. L'iniziativa promossa è realizzata in collaborazione con l'Enac, all'obiettivo di sensibilizzare i viaggiatori sulla regola dei bagagli a mano. Lo scopo è velocizzare i controlli di sicurezza e ridurre la quantità di oggetti proibiti, comprete alcuni dolciumi, potendo contare su una quota di passeggeri sempre maggiore, correttamente informata sulle normative del settore. Insieme al personale aeroportuale, che spiegherà ai viaggiatori le regole, è prevista la distribuzione di un depriano informativo bilingue, utile e promemoria per ricordare cosa e come può essere trasportato nel bagaglio a mano. Una campagna che punta a informare i passeggeri, agevolando la loro preparazione e i controlli, migliorare la performanza dei servizi riducendo i tempi di attesa ai varchi, e dunque con positive ricadute per la normale attività dello scalo. Per sopportare la campagna informativa voluta dall'Enac, SAC ha realizzato un pieghevole in italiano e inglese che verrà distribuito ai passeggeri, in partenza pubblicato sul sito web e sui profili social ufficiali dell'aeroporto di Catania. Noi vi forniamo alcune indicazioni. Quando prepari il tuo bagaglio a mano, lascia a casa gli oggetti che sai che non puoi portare. Questo ti farà risparmiare tempo e controlli di sicurezza, ed eviti di dover buttare via pistole giocattolo, spray, coltelli, oggetti esplosivi, forbici. Ricordati di inserire i liquidi fino a 100 ml in bustine trasparenti. Hai un bimbo piccolo? Per lui puoi portare con te latte e succhi in quantità proporzionale alla durata del viaggio. Arriva in aeroporto almeno due ore prima della partenza del tuo volo. Dopo aver effettuato il check-in, esibisci la tua carta di imbarco, cartaceo o digitale e un documento di identità valido al personale addetto. Mentre sei in fila, preparati i controlli. Svuota le tasche, togli il cappotto, il giubbino e il cappello, deposita nella vaschetta borsa zaino e liquidi nella bustina e tutti gli oggetti metallici ed elettronici, orologi, cinture, cellulare e tablet. Bevi con calma mentre sei in attesa dei controlli e poi getta la bottiglietta nell'appositi contenitori. Se gli operatori ti chiedono di controllare le tue scarpe, al metal detector indossi gli appositi calzari igienici. È importante viaggiare informati. È sempre più in crescita l'universo veg in Italia. Circa l'8% della popolazione italiana infatti ormai è diventata vegana o comunque vegetariana. Un fenomeno che cresce e insieme a questo anche di conseguenza i matrimoni e i viaggi di nozze vedono sempre più richieste vegane. Sentiamo. È sempre più in crescita l'adesione allo stile di vita vegano. Un rapporto dell'Eurispes, ente privato che controlla e aggiorna sui cambiamenti politici, economici e sociali, ha diramato un report che attesta che l'8% della popolazione italiana è vegan. La crescita, adesso come provano i dati, si ripercuote sui matrimoni. Sì, sono sempre di più gli sposini che preferiscono allontanare totalmente la proteina animale, non solo nel menu del ricevimento ma anche e soprattutto durante i viaggi di nozze. Come fare? I motori di ricerca per viaggi organizzati sono un valido aiuto per poter affrontare con serenità e, perché no, con gusto, un viaggio di nozze. Cinque consigli suggeriti da Cart Orange per viaggiare e vague. Evitare il fai-da-te. Secondo gli esperti del settore è preferibile rivolgersi a Infopoint, agenzio tour operator, che aiutino a selezionare e a fare una cernita delle località, dove è più semplice trovare delle valide alternative ai ristoranti tradizionali. Ovviamente, ed è qui che scatta il secondo consiglio, non si può pretendere di pensarci all'ultimo momento. Pianificare con largo anticipo è fondamentale per creare con un consulente momenti di confronto e dubbi da dissipare. Organizzare un viaggio con largo anticipo per persone vegane è indispensabile per trovare strutture adatte ed affini alle loro esigenze. Tra le mete sarebbe opportuno preferire l'Oriente, India, Thailandia, Indonesia. Hanno una cultura alimentare basata sui vegetali e sui legumi. Il Giappone risulta essere anche una bella scoperta gastronomica in tal senso. Durante la scelta sarebbe comunque auspicabile, come consiglia Cart Orange, cercare le mete vague free and aisle. Sono in crescita, sono tante, tra queste, gli Stati Uniti, dove è in netta crescita la nascita di catene e di ristoranti. Insomma, basta saper cercare anche i meno inclini al VEG potranno venire incontro alle esigenze degli sposini vegani. Il divieto di transito sulla via Benedetto Brin di Marina di Ragusa nel tratto compreso tra la via Vasco-Degame e la via del mare è stato prorogato fino al 15 settembre prossimo, dalle ore 19 alle ore 6 di tutti i giorni. A disporlo una nuova ordinanza del dirigente del settore nono Polizia Municipale, il comandante Giuseppe Puglisi, a causa dell'aumento considerevole del transito veicolare al centro storico di Marina di Ragusa in direzione Piazza Duca degli Abruzzi, dovuto soprattutto e sia soprattutto per la presenza di turisti. Prima seduta di allenamento ieri per la passa l'acqua, adesso c'è grande attesa per il campionato. Carmela Minardo. Prima seduta di allenamento sul parquet del Palaminardi per la passa l'acqua, spedizioni davanti a un gruppo di sostenitori alla corte del coach Lambruschi, le biancoverdi quasi al completo. Mancano ancora le due spagnole, Astun Dur e Laura Nichols, fresche di medaglia d'argento alle Olimpiadi brasiliane. Il roster allestito quest'anno per affrontare la massima serie del campionato di basket si presenta con 5 nuovi elementi ed il gruppo delle Under 18. Unica straniera presente al momento la belga Julie Van Loo. È stata molto emozionata di cominciare la nuova stagione, è stata una lunga estate, ha lavorato tanto per essere pronta e spera di fare il meglio possibile. È molto fiduciosa per l'Eurocup perché pensa che questa sia una buona squadra, conosce un po' il suo valore, ha un po' capito il valore delle compagne, quindi pensa che anche in Eurocup la squadra potrà fare bene. Insieme a lei Benedetta Bagnara, Laura Spreafico, Federica Brunetti, Alessandra Formica e lei veterane Gaia Gorini, Chiara Consolini e il neo capitano Lia Valerio. Quest'anno partiamo da una base diversa, abbiamo cambiato tanto, però credo che questo gruppo mi dà la sensazione di puntare al successo. Io adesso credo che lavorando sia un obiettivo che si può raggiungere. Emozioni, sogni e tanta voglia di lavorare da parte di un gruppo che vuole fare il meglio possibile, tanto in campionato quanto in Eurocup. Sicuramente per il mio punto di vista ognuno deve portare qualcosa, il suo mattoncino per far bene all'interno del gruppo. Io per quanto posso dare, per come sono fatta io, la difesa è la cosa che mi piace fare meglio, quindi cercare di essere forte in difesa per poi riuscire anche a fare bene in attacco con la mia caratteristica del tiro da tre, ma cercare di migliorarmi anche in altre cose per essere più utile alla squadra. La squadra continuerà in queste settimane ad alternare sedute di atletica ad allenamenti con la palla a spicchi. Nei prossimi giorni sarà allestito il calendario delle amichevoli precampionato. Dopo la conquista della Coppa Italia lo scorso anno, il coach Lambrus, che nella parlare dell'allestimento della squadra, esordisce con la solita ironia che lo contraddistingue. L'obiettivo è non far rimpiangere il fatto che la squadra l'abbia fatta io, il primo obiettivo. Il secondo sicuramente fa parte dello spirito della società e del presidente è vincere ogni volta che si entra in campo, quindi il primo obiettivo sarà la Supercoppa senza stress né angosce se non dovessimo raggiungere, poi via via il campionato, l'Euro Cup per fare esperienza e andare il più avanti possibile. E poi c'è un obiettivo ulteriore a quest'anno che è quello di far crescere le giocatrici che abbiamo preso e quelle che poi si spera in un futuro rappresenteranno i colori delle Irene ad alto livello. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria ma torniamo subito dopo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte delle agenzie, pertanto questa edizione del nostro telegiornale termina qua. Grazie per averci scelto, buon proseguimento su Video Mediterraneo e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.